Buonasera e bentornati nello studio di Fano TV dedicato agli approfondimenti perché questa sera torneremo a parlare del piano di protezione civile del comune di Fano che riguarda le varie emergenze nelle quali ci possiamo trovare anche all'improvviso. Do il benvenuto agli ospiti di questa sera, l'assessore del comune di Fano Cristian Fanesi, assessore della protezione civile fra l'altro. Buonasera e poi abbiamo anche Fabrizio Battistelli funzionario lavori pubblici del comune di Fano, buonasera anche a lei Fabrizio. Allora ricordiamo come sempre l'obiettivo assessore perché l'informazione non è mai abbastanza. Sì, se mi permette una battuta, il cittadino informato è un cittadino mezzo salvato, parafrasando un detto popolare, perché l'informazione in caso di emergente di protezione civile è vitale sia per preservare la vita propria e dei propri cari, ma anche per preservare il bene privato, quindi le proprietà private. Quindi noi facciamo questa presentazione del piano che abbiamo provato alla fine del 2018 per informare la popolazione, perché come detto tutti noi siamo coinvolti nel sistema di protezione civile e l'informazione è veramente vitale in alcune situazioni. Questo piano, un punto che è possibile visionare sul sito del comune, individua anche delle aree idonee poi all'organizzazione delle varie operazioni. Sì, le aree che noi abbiamo individuato in questo piano fondamentalmente sono di tre tipi diversi. La prima è l'area di accoglienza, cioè sono aree di ricovero dove eventualmente dovremmo, come dire, ricoverare appunto e dare assistenza alla popolazione in caso di emergenza. Ma le principali sono quelle di attesa o di primo soccorso, dove l'agente in caso di necessità, pericolo, si sente minacciata da varie cose oppure c'è stato appena un terremoto, deve andare e attendere appunto l'arrivo dei volontari di protezione civile, dei tecnici comunali per poter ricevere questa assistenza. Infine ci sono le aree di ammassamento, ovvero quelle aree che sono aree tecniche, dove i volontari di protezione civile, il sistema di protezione civile, invece deposita, ammassa, dal punto di vista tecnico, diciamo gli strumenti che servono per assistere alla popolazione. Ecco Fabrizio, sono tutte aree presidiate queste? Le aree, alcune sono tutte aree dormienti, inizialmente tutto, quindi sono aree individuate sul piano, codificate e segnate cartograficamente. Ok, quindi c'è una cartellonistica anche per risposta. E' in fase di attuazione la cartellonistica di individuazione delle aree di attesa, che sono quelle più sensibili e più importanti, diciamo, nella fase post-evento. Come vengono attivate? Il centro operativo comunale, che è la struttura che gestisce l'emergenza in area locale, che supporta il sindaco, perché poi in realtà è il sindaco e il comune che gestisce tutta l'emergenza, il centro operativo comunale, all'indomani, al susseguirsi di un evento che possa essere uno sisma, ma può essere anche un evento alluvionale, o quello che è, dove c'è bisogno di portare, di dare assistenza a delle cittadini, attiva le aree di attesa. Aere di attesa che verranno presidiate in qualche maniera, secondo le disponibilità che ha in quel momento il COP, per cui potrebbero esserci che ci arrivano su forza dell'ordine, potrebbe essere che ci arrivano dei volontari. L'importante è che chi arriva lì ha un collegamento diretto con le funzioni operative del centro operativo comunale. Esatto, che quindi svolge un ruolo fondamentale. Per cui può dare informazioni e principalmente raccogliere informazioni per organizzare i soccorsi. Da questo qui, come penso che si diceva precedentemente, nasce e poi si cerca di capire all'interno del centro operativo comunale i fabbisogni e cosa di spiegare in campo per dare una risposta di assistenza alla popolazione. Il COP, dicevamo che è questa struttura che praticamente è dormiente, è individuata in un certo numero di tecnici e funzionari che supportano il sindaco nelle scelte operative e si riunisce, praticamente siamo qui di qua, di fianco a voi siamo, c'è una struttura che ha le sue sale operative e si attiva ciascuna per ogni sua competenza. Quindi in Vio Paolo Borsellino, lo ricordiamo per chi non lo sapeva. Vio Paolo Borsellino, sì, il COP. Ci sono invenienze, io mi ricordo, ho avuto la possibilità di salire ad Amatrice nelle prime 24 ore. Una, ad esempio, problematica grandissima che doveva risolvere il comune, quindi il COP, era dare un'identità alle persone. Perché a un evento come quello che è stato il sisma, tutti sono usciti di casa, le case sono purtroppo la maggior parte venute giù, o se non erano venute giù non erano idonei ad entrarci tranquillamente. Non erano agibili, certo. Il giorno dopo c'erano persone senza identità, per cui rimettere in piedi, il comune non c'era, era venuto giù anche il comune, hanno dovuto rimettere in piedi tutto un sistema di anagrafe per poter dare dei documenti ai cittadini che poi gli dovevano servire per fare tutto quello per viverci. È un lavoro non indifferente. È un lavoro, è un po' un evento di quel tipo lì, bisogna che in qualche maniera ci siano qualche predisposizione pronta ad operare. Nella seconda puntata, Fannisi, abbiamo iniziato a parlare di queste aree, facendo capire anche a casa, importantissimi, quali sono i luoghi, quindi dove devono recarsi. Vogliamo proseguire anche per dire agli altri quartieri quali sono i punti di riferimento? Sì, certamente. Lo ripeto, la città è stata divisa in tanti quartieri, per ogni quartiere abbiamo individuato delle aree. Eravamo parlato, diciamo, delle zone più centrali e ora elencherò alcune zone un po' più in periferia. Ad esempio nel quartiere Flaminio il piazzale Calamandrei è il punto di attesa, l'area di attesa. Al Vallato il piazzale San Paolo è l'area verde di via Ranuzzi. A Centinarola il parcheggio è l'area verde dietro la chiesa del Sacro Cuore di Gesù. A Sant'Orso i parcheggi di via Sant'Eusebio. A Rosciano i parcheggi è l'area verde di via Tonelli. Nella zona artigianale di Rosciano invece è via Nobili. Il mercato autofrutticolo è il parcheggio di via Borsellino. La zona artigianale di Cucurano si parla del parcheggio di via Don Buratelli. A Cucurano il parcheggio di via Urbino. A Carrara il parcheggio di via Reno. A Cannelle il parcheggio è l'area verde in via Vittime di Nasseria. A Bellocchi il parco della via 24esima strada vicino alla via 22esima strada. Nella zona industriale invece a nord-est di Bellocchi si parla del nuovo parcheggio del centro commerciale. A Bellocchi sud invece nella zona industriale si parla del parcheggio di via Einaudi. Mentre per quanto riguarda la baia Metauro si parla del parcheggio di via De Gasperi. Ponte Metauro il viale Piceno nel parcheggio di Cecchini. Il parcheggio nella zona industriale di Ponte Metauro invece si parla di via del ponte e via caduti del lavoro dove ci sono altri parcheggi. A Tombazza c'è il parcheggio dell'area verde. Tre ponti l'area verde in località Madonna Ponte. Metauriglia invece l'area verde è il parcheggio della chiesa. A Torrette Mare il parcheggio di via Bella Riva. Mentre a Torrette Monte si parla del parcheggio lungo la strada nazionale adriatica sud. A Ponte Sasso via Miraglio Caperlini area verde e l'area verde è sempre a monte della ferrovia sempre lungo Ponte Sasso. Camminate si parla del parcheggio appunto del quartiere di Camminate vicino alla chiesa. Al Fenile la piazza 4 Ottobre. A Carignano via Angiolello il parcheggio. A Roccon Sabaccio la croce. Mentre a Fosso Segliore si parla del parcheggio lungo la strada nazionale adriatica nord. Queste sono aree che appunto come dicevamo prima dove la gente può recarsi in caso di necessità. Ovviamente il COC, il Centro Operativo Comunale coordina l'arrivo dei volontari e lì possono ricevere sia un primo soccorso che alcune indicazioni utili per il caso appunto di emergenza. Sono aree molto importanti per cui saranno a presto segnalate anche con della cartoneolistica ad hoc. Ecco ci sono vari tipi di emergenza non soltanto il terremoto. Sì, il terremoto è il rischio non prevedibile, è quello principe, è quello a cui purtroppo anche mediaticamente siamo tutti più attenti. Abbiamo spiegato come comportarsi, bisogna essere sempre pronti, però ci sono anche altri rischi. Nella città di Fano purtroppo abbiamo un bacino idrogeografico molto ampio del fiume Metauro, quindi c'è anche il rischio idrogeologico dovuto alle frane nelle campagne, dovute alle alluvioni. E quindi quello è un rischio diciamo in particolare che ci preoccupa molto perché può avere degli effetti anche distruttivi, tra virgolette, per la proprietà privata. Quindi le esondazioni. Le esondazioni. E quindi vorremmo consigliare qui anche a quelle persone che hanno il sospetto di trovarsi in area esondabile, di informarsi, di cercare nel piano di emergenza comunale se veramente la loro casa è in un'area esondabile, e di prepararsi in un certo qual modo all'evento, nel caso si dovesse, come dire, nel caso dovesse avvenire, essendo pronti, informando tutti i componenti della famiglia, come farebbe un buon padre di famiglia, indicare le aree che sono alte rispetto alla casa, dove magari ci si può anche ammassare in caso di evento di alluvione, e quindi capire il terreno circostante, capire cosa può succedere, ma anche essere preparati con delle chiavi, le chiavi di casa, i medicinali che sono in genere ad uso più corrente, quelli giornalieri, tanto per intenderci, ma anche avere un vestiario disponibile e in un posto raggiungibile, noto a tutti, come dire, adeguato a questo tipo di rischio, avere la fotocopia dei documenti, perché lo dicevamo prima, uno dei problemi più grossi per continuare l'attività è quello della mancanza dei documenti, che ovviamente è legato alle attività di tutti i giorni, il lavoro, la patente, eccetera, eccetera, e poi avere sempre a disposizione una pila e una radio, perché in caso di emergenza, nel caso estremo di emergenza, la corrente elettrica, le comunicazioni potrebbero mancare, quindi radio, medicinali e pile sempre a disposizione. Dopo, ovviamente, bisogna cercare, appunto, di individuare le zone dove si può aspettare che l'evento alluvionale passi, quindi le zone più alte, bisogna cercare di, come dire, evitare che i piani più bassi delle case, gli scantinati, eccetera, ci siano cose preziose, in maniera tale da limitare i danni alla proprietà privata, e poi bisogna informare tutti i componenti della famiglia, appunto, anche con delle riunioni dedicate, perché questo evento può succedere. Ovviamente, rispetto al terremoto, questo evento è diverso, nel senso che con la modellazione matematica, con un sistema di allertamento, eccetera, la regione Marche avvisa i comuni in caso di evento. Negli ultimi eventi che sono successi in giro per l'Italia, questo è avvenuto. C'è un avviso preventivo della regione, che, appunto, gestisce il sistema di allertamento meteo. I comuni, però, hanno il dovere di informare la popolazione, di attivare i media, che sono componente portante del sistema di protezione civile moderno, e quindi comunicare che ci potrebbero essere dei problemi. Ovviamente, la gente, poi, si deve adeguare, deve recepire queste comunicazioni e fare in modo che non subiscano danni alle persone, neppure le cose. Ecco, Fabrizio, dunque c'è proprio un sistema di allerta per l'emergenza, per le situazioni prevedibili. Il sistema di allertamento è ormai codificato e chiarito e codificato a livello nazionale. Per cui, i famosi colori verde, giallo, arancione e rosso, che sono intuitivi, sinottici, immediati, sono i vari livelli di allerta. Il verde, generalmente, non viene mai avvisato che siamo in verde, perché è la situazione normale, di ordinaria, senza nessuna emergenza e pericolo e rischio. Dal giallo in poi, il centro polifunzionale della nostra regione, che fa le previsioni meteorologiche e tiene monitorato il territorio, per esempio, lo tiene monitorato anche con sistemi abbastanza, sia il metauro che l'arzilla, sono telecontrollati, hanno i livelli, ad esempio... Proprio costantemente. Noi, in regione, costantemente, c'è il livello che gli segnala gli allarmi. Noi ne abbiamo nel nostro territorio uno, al confine con Calcinelli, sul ponte della Cerbara, e un altro sul ponte Metauro, mentre l'arzilla è monitorato all'altezza più o meno di Carignano, da quelle parti là. Detto questo, la regione fa partire, in base alle previsioni meteorologiche e quello che succede sul territorio, delle allerte, che parte dal giallo, che diciamo è una situazione ordinaria, ma è già un'allerta, nel senso che si attivano all'interno della struttura di protezione civile, tutta una serie di contatti, non viene, diciamo, rigirato alla popolazione perché è una fase di attenzione. Però ci si fa trovare pronti. Però, di già, partono gli sms di avviso a tutta la struttura, che dice c'è questa allerta, quindi vediamo di tenerci pronti. Ok. L'alerta poi possono, in base alle situazioni che o la regione individua, perché ha un punto di vista più alto, o noi sul territorio vediamo che localmente ci sta succedendo che quella gialla sta diventando più preoccupante, che si passa all'arancione e lì si mette in atto tutta una serie di procedure per allertare la popolazione, quindi avvisare la popolazione tramite mass media e cosa, attivare le funzioni necessarie per il COC per continuare i monitoraggi. Nella prima fase, ad esempio, partono i monitoraggi, se parliamo di rischio idrogeologico, partono i monitoraggi di alcuni proprio visivi, mandiamo i volontari della locale associazione, sul posto ogni tottora a monitorare che cosa sta facendo l'Arzilla, piuttosto che il rio Crinaccio, quei rii minori che non sono monitorati direttamente dalla regione. Ok. E lì li presidiamo costantemente. E dopodiché, in base alle fasi, c'è il COC che comincia a ragionare come l'affrontiamo. Sì, da farsi, certo. Divulghiamo le informazioni ai cittadini, si cerca di individuare, ad esempio, dove ci potrebbero essere dei cantieri a rischio per avvisarli e tutto quello che è possibile mettere in atto per ridurre i rischi e i danni derivanti da quegli eventi. Quindi, insomma, dal verde al giallo, arancione al rosso, dove ovviamente è la situazione più pericolosa. In questa fase qui, ma come in tutte le altre fasi, il cittadino è una parte importante, cioè viene attivato il sito, viene attivato le diverse cose. Il cittadino è una parte importante, perché poi il cittadino si deve tenere informato. E deve, per me, io dico, deve acquisire uno stile di vita, non di vivere nel terrore, ma di acquisire degli automatismi che guardano alla sua sicurezza. Faccio un esempio banale. Sì, prego. Parlando di terremoto, è vero, noi adesso abbiamo detto andiamo sotto il tavolo di qua di là, però questo succede a casa tua. Se vado in una villeggiatura, mi dovrò preoccupare di capire in che territorio vado, se l'albergo che vado è una catapecchia, perché pago poco, è una catapecchia, o se è adeguato, e magari, perché sto andando, ritorno a rifare l'esempio di Amatrice, Amatrice, 2.000 persone, coinvolte 20.000 persone, perché era in piena stagione turistica, che la maggior parte poi erano in casi in affitto che non avevano… Sono quelle cose che forse a volte proprio non ci si pensa, in realtà è fondamentale. Perché non entro in uno stile di vita, mentre invece se uno entra in un locale e già quando entra, ce l'ha in automatico, vede che quella zona là potrebbe essere sicura, le vie di sicurezza sono quelle, do un'occhiata, mi va in automatico. Questo devo dire che sulle nuove generazioni, in particolar modo con il lavoro che sta facendo la scuola, individuare le vie di sicurezza, tutte queste necessità che potrebbero insorgere, sulle nuove generazioni viene fuori, sta venendo fuori. È fondamentale. Ricordiamo la precauzione principale, mantenere la calma e aiutare anche le persone che si trovano in difficoltà, in qualsiasi tipo di emergenza. Certo, questo sempre, la calma, la lucidità, affidarsi all'assistenza che la protezione civile dà e può dare, però anche curarsi di chi sta peggio di noi. In una casa esondabile magari dare ospitalità a chi sta al piano di sotto, magari il nostro vicino di casa dare ospitalità. Questo è un sistema che funziona perché la solidarietà che noi possiamo mettere in campo, anche in questi casi, permette anche di fare grandi cose. Perché, lo dicevamo prima, l'Italia, il nostro paese, è un bellissimo paese, però, in questo fanno non fa eccezioni, è un paese fragile dal punto di vista anche dell'assetto idrogeologico. E dunque, ovviamente, la cura, la manutenzione non manca, però l'informazione è necessaria perché tutti poi possiamo affrontare questi rischi in maniera adeguata. E quindi, io credo che lo scopo anche di queste nostre trasmissioni sia quello di trasmettere appunto questa sensazione. Il Comune è pronto, facciamo fronte, abbiamo fatto fronte a tante emergenze, però dateci una mano perché 60.000 abitanti sono tanti, la protezione civile ha tantissimi volontari, ma non sono ovviamente migliaia di persone, sono centinaia di persone molto brave, preparate, però abbiamo bisogno di una mano di tutti. E questi approfondimenti dedicati al piano di emergenza comunale terminano questa sera, però voi continuerete nella vostra opera di informazione andando quartiere per quartiere, quindi aggiornando il vostro sito internet, siete sempre pronti? Siamo sempre pronti, anche perché c'è chi si può informare tramite il web, noi vi invitiamo a farlo nel sito del Comune di Fano, c'è tutto il piano di protezione civile, oggi ne abbiamo dato qui per chi magari non ha questa disponibilità un largo estratto, almeno dal punto di vista filosofico, però andremo anche, come dire, nei circoli, nelle associazioni a spiegarlo, per cui la gente se ci vorrà potrà farci anche delle domande in maniera tale da avere una comunicazione più efficace e informare tutti, perché come ho detto all'inizio, e vi permetto di concludere con questo slogan, il cittadino informato è un cittadino mezzo salvato. E ovviamente è così come il Comune continuerà ad aggiornarsi, a formarsi, anche i volontari della protezione civile, quindi con tutte le varie esercitazioni. Beh, conoscendo quelle realtà so che sono in fermento continuo, cioè loro continuamente si esercitano per poter dare una risposta in caso di bisogno. Devo dire che un volontario dà il massimo sempre, proprio perché l'ha scelto lui di fare, l'abbiamo notato sul campo, l'abbiamo notato. È vero, ci sono state già diverse occasioni in cui hanno dimostrato davvero una grande responsabilità, una grande preparazione. In alcuni casi bisogna mettergli dei freni, perché sono pronte a spendersi più di quello che potrebbero. Beh, ringraziamo ovviamente, ne approfittiamo tutti coloro che si spendono, appunto tutti i volontari che danno una mano in queste situazioni. Ringrazio invece per questa occasione Cristian Fanesi, Assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile del Comune di Fano. Grazie Assessore. Grazie a voi. E Fabrizio Battistelli, che è funzionario ai lavori pubblici del Comune di Fano. Grazie, buona serata. Grazie e grazie anche a tutti i telespettatori per averci seguito. Arrivederci.